Buongiorno, 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 buongiorno. Nelson Mandela, Gesù di presa uno, non sapevi che è diventato presidente della Sudafrica. Poi, un giorno, in una trattoria, ha avuto il presidente con chi ha il governo. Un certo punto entra in un paio e lui va a incontrare e lo accompagna fin d'oggi di lui e che sta al mangiare insieme con due cilorri. Due ci sono disasperi che che lì, quando il mangiare, ha tremato che mai. Alla fine di mangiare, non l'ha mai detto, ha saluto e ha lasciato. Allora gli hanno domandato, c'è ora mai, c'è il tipo che è, perché ha il trame. E gli hanno detto, appena che lei è entrata nel porto, lo hai conosciuto, al che il che ti ha preso mi ha torturato. E probabilmente il trame aveva, perché aveva paura che io mi svindicasse. Ma io, quando sono Gesù di presa, voi dite come ho? O sei libero. E ho perdoni ad oggi perché non puoi entrare in presa dal voler svindicarmi. Grande. Buona giornata e buona vita.